le regole per rimorchiare ormai sono una scienza seguite il mio metodo imparerete a conquistare qualsiasi ragazza in sette ore tu io non saltare alle conclusioni io non lo so se queste cose che racconti sono veri oppure no il mondo è pieno di ragazze carine disponibili ciao sono ernesto ti posso conoscere vai a cagare vedi riconquistare un ex è la cosa più difficile del mondo se qualcuno se l'è portata via perché ai suoi occhi aveva più valore di te sei venuta da solo al mare sì veramente verissima termine mensole no è un test dello zerbino se ci tieni veramente questa ragazza tira fuori le palle smettila subito è perché vicerila ti dà fastidio julio non chiamarmi vicerila te l'ho insegnato io con me non attacca questi simboli che stai mettendo così come così che significa niente come niente seduzione così non vale muoio dalla curiosità ecco brava muori senti ma se dovessi pensare di scrivermi no che tengo bisogno perché diciamo anche se non sono bello una mia nicchia mi vado abbastanza forte ora brividiamo davanti a traduzioni pessime di titoli di film stranieri qualche esempio fatti strafatti e strafighe per esempio versione italiana di dude where is my car the break up diventato ti odio ti lascio ti puntini puntini e eternal sunshine of the spotless mind diventato se mi lasci ti cancello quello aggiungereste voi fatemi sapere e se volete indossare questa bella maglietta eccola qua cliccate qui sotto per scoprire come ciao da valeria